Sarà un fine settimana importante per le due squadre già resi di pallavolo di Serie C. Tra le donne l'Amici del Volley è a caccia di conferme. Domenica scorsa al Palaiungo contro la Pallavolo Messina, Barone e compagni hanno fatto vedere più bassi che alti nella loro prestazione. E domani a Rocca di Caprileone contro la Nebro di Volley, oltre alla vittoria, l'Amici del Volley dovrà offrire anche una prova convincente. Arriva invece dal turno di riposo la New Image Volley Jar, che domenica sarà chiamata ad una partita difficilissima sul campo dell'Aquilia Bronte. L'inizio del sestetto di Luca Palma in questa Serie C è stato balbettante e adesso sia il tecnico che il presidente Antonello Sorbello chiedono alla squadra un cambio di passo.